Roberto Arboscello, a Pietraligure l'incontro del candidato presidente Andrea Orlando con il comitato per la riapertura del punto nascite, cos'è emerso? E' emerso un grande realismo e non delle promesse da maga a magò, nel senso che non si può promettere l'impossibile, non si può promettere la riapertura di tutti i pronto soccorso, non si può pensare con la bacchetta magica di risolvere problemi che ormai sono nove anni che affliggono la nostra Liguria, il candidato presidente Andrea Orlando è stato chiaro, il punto nascita a Pietraligure va riaperto, c'è un piano sociosanitario che prevede la presenza dei due punti nascita, uno a San Paolo e uno a Santa Corona, con il San Paolo deputato a accogliere anche le donne in gravidanza che provengono dal ponente genovese e Santa Corona dal levante imperiese, quindi il piano sociosanitario è qualcosa di buono, ha fatto come critichiamo quando fanno qualcosa di sbagliato, nel piano sociosanitario ci sono delle note positive che è la distribuzione dei punti nascita sul territorio regionale e non solo all'interno delle singole province. Quello prevede il piano, quindi l'impegno è di attuare nel più breve tempo possibile la riapertura di questo punto nascite con il grosso dilemma del reperimento delle risorse umane e quindi da lì tutta una serie di problemi, compresa ad esempio la ricettività e l'abitare di tanti operatori sanitari che verrebbero a lavorare ad esempio a Santa Corona, ma che hanno difficoltà già a trovare una casa. Tra i temi caldi della campagna elettorale nel ponente è anche la questione viabilità. Viabilità e infrastrutture in genere, io credo che quello sia un tema che affligge la regione, che sia veramente critico da tutti i punti di vista, sia per chi vi risiede e chi lavora, ma per i tanti turisti che arrivano, partono dall'Irguria per tornare a casa e sia per chi invece lavora o ha delle attività produttive, penso ai nostri porti. Le infrastrutture vanno fatte, abbiamo bisogno, la Liguria ha bisogno di infrastrutture moderne e qualcuno dice che siamo il partito del no, no assolutamente, noi siamo il partito di sì, diciamo tanti sì, compreso quello delle infrastrutture moderne, ovviamente rispettose dell'ambiente in cui viviamo, perché è un ambiente meraviglioso che non può essere del tuo sfatto. Grazie. Grazie.